Bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie di nuovo aperti a Catanzaro? No, le serrande sono rimaste chiuse, nonostante l'ordinanza shock di ieri sera del Presidente della Regione Calabria Iole Santelli che da oggi, 30 aprile, consentiva a queste attività commerciali la possibilità di poter servire all'aperto ai tavoli, ai propri clienti. Le attività commerciali hanno preferito non riprendere l'attività prima dell'inizio formale della fase 2 dalla prossima settimana, vuoi perché l'ordinanza è arrivata in tarda serata, vuoi perché probabilmente non erano nemmeno pronti da un punto di vista organizzativo a riavviare l'attività con tutte le misure anticontagio e di sicurezza previste sia a livello nazionale sia a livello regionale e anche perché nella prima parte della mattinata è arrivata la controordinanza del Sindaco Sergio Abramo che ha congelato di fatto la misura adottata della Santelli disponendo la proroga delle misure ristrittive fin qui in vigore nelle scorse settimane fino al prossimo 3 maggio. Quindi nonostante il blitz del Governatore della Calabria per bar, ristoranti, pasticcerie e ristoranti c'è ancora da attendere.